Ciao a tutti ragazzi, come sempre prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che ogni lunedì facciamo una nueva giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione e di attivare anche la campanella, sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille ragazzi, adesso cominciamo con il video. Ragazzi Bitcoin ha avuto un bel rally durante e dopo l'incontro di ieri, oggi parleremo di quello che accadrà in Bitcoin, a cosa dovreste prestarle attenzione se avete aperto un trade o se state pensando appunto di aprire un trade. E per tutti quanti coloro che hanno aperto un trade simile al nostro, che adesso è un aumento del 40%, parleremo di questo fatto per darvi appunto un paio di scenari diversi e anche di cose che dovreste controllare proprio adesso. E quindi ragazzi insomma, come sempre, bentornati a tutti, mi chiamo Marco, portano un video riguardo ai cript ogni giorno, mostrano come fare il soldo in questo mercato. E ragazzi se vi è piaciuto il video di ieri dove parlavamo di come l'azione dei prezzi per Bitcoin avrebbe fatto qualcosa di diverso da quello che la maggior parte delle persone si aspettava e quindi se vi è piaciuto il rally che abbiamo visto ieri, se vi è piaciuto anche il video che abbiamo pubblicato ieri, allora come sempre se potreste considerare l'iscrizione e di attivare anche la campanella sarebbe assolutamente fantastico. E detto questo ragazzi cominciamo come sempre con il grafico da 4 ore perché quello che possiamo vedere in questo grafico è che ieri abbiamo avuto una bella salita e siamo arrivati fino al bordo della fascia arancione a 40.000 dollari. E come sapete ragazzi questa qua è una resistenza molto forte per Bitcoin, possiamo vedere quante volte abbiamo provato a superare questo livello. Abbiamo provato per 3 volte totali ma siamo stati respinti da questa zona. Adesso stiamo formando una specie di modello leggermente rialzista quindi abbiamo una specie di bandiera rialzista in questa zona che voglio mostrarvi e come sapete questo qua è qualcosa che abbiamo visto molte volte in passato, è un modello molto rialzista. Ma una cosa di cui dobbiamo essere consapevoli è che ci aspettavamo appunto che Bitcoin andasse verso l'alto ieri ma perché ci aspettavamo che Bitcoin salisse? Ebbene come sapete non eravamo in zona di resistenza, eravamo ad un livello di supporto enorme ma anche perché di solito questo qua è quello che vediamo dopo i meeting. Quindi in questo grafico come possiamo vedere durante gli incontri della Fed siamo sempre scesi prima degli incontri perlomeno prima degli ultimi due incontri siamo sempre scesi nel mercato e dopo l'incontro abbiamo fatto dei bei movimenti verso l'alto. Quindi possiamo vederlo in questa zona, siamo scesi e dopo l'incontro che abbiamo avuto abbiamo visto un bel rally in Bitcoin e se controlliamo anche l'incontro successivo stiamo andando verso il basso e quando abbiamo avuto la riunione vera e propria in quel caso siamo saliti. E quindi questo qua può portarci al livello successivo di resistenza di questo canale che sarebbe a 54 mila dollari quindi non lo escludo ma anche se abbiamo appunto alcuni livelli di resistenza molto importanti da superare prima. Ma basta guardare questo e quello che è successo anche durante le precedenti riunioni della Fed perché Bitcoin ha cominciato a salire e quindi questo qua ci ha dato un indizio su cosa stessi appunto pensando il mercato e sul tasso appunto della Fed. E quindi abbiamo avuto informazioni importanti e alla fine hanno aumentato i tassi dello 0,5% e quindi hanno aumentato i tassi e hanno anche affermato che alla fine ridurranno anche le partecipazioni di 95 miliardi al mese. E cosa significa questo qua? Bene, in pratica per stimolare l'economia negli ultimi due anni la Fed ha acquistato molti asset e quindi cominceranno a rivenderli ma sappiamo già tutto quanto questo ed hanno anche detto che lo faranno quindi non abbiamo una data specifica ancora. E inoltre un aumento del tasso dei 65 punti non è qualcosa che il comitato sta attivamente considerando e quindi il mercato apprezza questo ovviamente ma una cosa a cui dobbiamo prestare attenzione che abbiamo avuto ragione abbiamo visto Bitcoin fare una bella spinta anche se la maggior parte delle persone si aspettava appunto che scendessimo dato il sentimento bearish nel mercato ma a prescindere non siamo ancora fuori pericolo ragazzi quindi come sapevate pensavamo appunto che saremmo scesi ma adesso è il tempo in cui dobbiamo essere cauti perché come possiamo anche vedere ci stiamo avvicinando al bro della fascia arancione stiamo già avendo un rifiuto in questa zona inoltre abbiamo anche una grande resistenza a 42.000 dollari qua in alto quindi possiamo ancora avvicinarci a questo livello ma aspetta soltanto che questa è una grande resistenza da superare e alla fine andremo a superare tutti quanti questi livelli alla fine andremo a prezzi molto più alti ma la domanda adesso è questa lo faremo subito o prima avremo altri aspetti negativi? Dove andremo a scendere a livelli più bassi? Forse andremo a ritestare questo livello per poi salire sempre più in alto vedremo appunto ragazzi ma per ora comunque se sappiate soltanto che questo qua è stato contrastato e il sentimento berice nel mercato richiederà ancora del tempo per invertire la tendenza e questo qua è quello che crediamo ragazzi non penso che andremo a vedere una candela verde per esempio fino a 45.000 dollari semplicemente andando verso l'alto o qualcosa del genere tutto quanto può succedere nel mercato nelle criptovalute ovviamente ma nel complesso prima di vedere un nuovo massimo storico penso che ci vorrà ancora diverso tempo anche se abbiamo alcuni indicatori chiave abbiamo dei segnali rialzisti di cui vi parlo ma abbiamo solo bisogno appunto di prestare attenzione a questi ragazzi e quindi ci stiamo avvicinando ad una certa resistenza il che mi porta anche a mostrarvi il nostro trade e quindi per tutti quanti coloro che hanno aperto un trade simile siamo adesso al 40% di profitto che non è male possiamo prendere questo profitto del 40% e chiudere il trade se per voi appunto era un trade a brevissimo termine vedo principalmente questo come un trade a breve e medio termine a prescindere il 40% è ovviamente buono e ci saranno altre occasioni in futuro per altri trade inoltre abbiamo anche una linea rossa molto molto importante a cui dobbiamo prestare attenzione e potremo prendere il profitto da questo trade a questo livello importante mentre ci avviciniamo alla linea rossa e come sempre andremo a mantenere i livelli di acquisto in basso come sempre aperti nel caso in cui dovessimo vedere una discesa verranno quindi aperti e non abbiamo problemi a lasciarli qui ma come tre da breve e medio termine se ci avviciniamo a questa linea rossa uno potrebbe prendere il profitto qui ed aspettare potenzialmente un nuovo test su questa fascia rancione a 38.000 dollari per esempio per aprire un nuovo trade e vedere se andremo verso l'alto quindi questo sarebbe sempre un trade a breve termine abbiamo i nostri biconi a tenere a lungo termine ma come trade potremo prendere il profitto in questa zona per esempio e poi andremo a rivalutare come sempre vi mostreremo anche il prossimo trade nel canale e quindi vi porterò sempre questi trade ragazzi se lo apprezzate come sempre se potreste considerare l'iscrizione e attivare anche la campanella sarebbe assolutamente fantastico e a parte questo cosa abbiamo bene abbiamo questo enorme supporto per Bitcoin ovvero abbiamo la nostra linea blu possiamo dire che l'abbiamo colpita e poi siamo saliti quindi dobbiamo vedere come andrà il mercato in questo caso questo livello non dovesse reggere abbiamo ancora un livello importante la linea rossa che è un supporto molto enorme nel complesso quindi abbiamo un supporto molto grande intorno a questo livello a parte questo ragazzi stiamo scendendo anche nel cugno di cui vi parlavo ieri che è vero da vedere e questo qua ovviamente è uno schema che abbiamo visto in passato e se andiamo al grafico giornaliero possiamo anche vedere che abbiamo avuto un breakout da questo cugno abbiamo avuto questo canale abbiamo avuto qualcosa di simile anche in passato abbiamo avuto un canale siamo andati a prezzi molto più alti una volta superato questo livello invece i mercati tradizionali stanno sempre salendo grazie alla notizia appunto da parte della Fed una cosa importante sulla scala macro è il DXY perché l'indice del dollaro sta iniziando a scendere e questo qua è un buon segno per Bitcoin quindi il dollaro diventa più debole significa appunto che Bitcoin ha più spazio e gli asset in generale hanno più spazio per crescere perché come sapete la maggior parte degli asset è valutata in dollari e quindi se il dollaro scende gli asset salgono di prezzo mentre il dollaro scende e quindi è un buon segno per Bitcoin e per tutti quanti gli asset anche per gli altcoins e possiamo vedere che questo qua è un livello con cui abbiamo anche lottato così tante volte già nel 2017 e nel 2020 e siamo a quel punto anche adesso quindi non andremo a superare questo punto molto facilmente se continuiamo a scendere sarà un bene per gli asset in generale adesso stop un attimo il video e vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti quale pensate che sarà il punto più alto in Bitcoin per questo mese fatemi sapere nei commenti e indiviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori è giusto per chiedere basta inviare il portafoglio una volta soltanto anche se si risponde a più video e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti e quindi buona fortuna a tutti e adesso continuiamo con il video a parte questo ragazzi c'è ancora un giorno per la campagna su Femex che voglio mostrarvi e quindi come sempre se volete richiedere dei bonus avete 100 dollari depositando il fondo a 500 dollari potete depositare i 50 dollari per non dovete farci trading potete comunque sia richiedere il bonus di 100 dollari semplicemente depositando i fondi nell'exchange e come sempre ragazzi avete anche i termini e le condizioni nella descrizione del video quindi assicuratevi di controllare anche questi e assicuratevi anche di approfittarne se volete per mantenere anche le vostre crypto al sicuro avete il link per leggere nella descrizione e ragazzi questo qua è quello che ho per voi per quanto riguarda questo video fatemi sapere come sempre nei commenti se vi è piaciuto e come sempre ci vediamo nel prossimo ciao a tutti